La piazza come perno centrale di tutta la manifestazione ma con tanti luoghi satellite che gli ruotano attorno presentando atmosfere e coinvolgimenti sempre diversi come le performance e gli eventi che vi prendono vita al loro interno. I luoghi di passaggio sono i luoghi dell'emozione, non sono stati scelti casualmente o per comodità ma come per il vino lo è il bicchiere giusto così per passaggi il luogo giusto esalta l'evento. Quest'anno dal 27 giugno al 1 luglio abbiamo portato alla chiesa di San Francesco tanti altri eventi perché innanzitutto qui sarà ospitata la rassegna giovedì, venerdì e sabato quindi dal 28 al 30 giugno condotta da Catena Fiorello che incontrerà tre scrittrici particolari tra cui per esempio Paola Maugeri, la nota DJ. Ma sempre qui il venerdì e il sabato alle 17 quindi si inizia presto quest'anno ci sono gli incontri, passaggi di benessere dedicati a libri che trattano del benessere del corpo e della mente. Poi la sera dopo cena si prosegue perché alle 9 abbiamo l'appuntamento con la poesia e poi alle 10 con le letture ad altavoce che tre brave attrici fanno per Rai Radio 3. Altro luogo di grande magia, di grande empatia San Pietro, culla della cultura e dell'arte fanese. San Pietro in valle ospita anche quest'anno le mostre d'arte. Una bravissima curatrice Paola Gennari organizza ogni anno per passaggi festival numerose numerosi appuntamenti d'arte anche quest'anno qui in questa sede quindi noi occupiamo tutta la chiesa, la sagrestia, la saletta Nolfi. Quest'anno ci sono quattro artiste, è un programma tutto al femminile anche per dare conto del tema del festival, il paese delle donne, le artiste sono Sabina Ferocio, Elfrida Gubbini, Beatrice Pasquali e Gilda Fantastichini. Il posto devo dire molto bello che per il turista è un piacere visitare sia per apprezzare le artiste che qui espongono ma anche per vedere questa meraviglia.